La sindrome di Tourette del Masseo? Cioè? La sindrome di Tourette Era Blurre quello di prima Ah, no, questo è il Masseo Era Blurre? I problemi si palesano durante l'infanzia Ci tengo a precisare prima della visione di questo video che non promuoviamo nessun tipo di bullismo verso la malattia riconosciuta a Tourette Non proviamo assolutamente cose del genere ma vi voglio vedere un attimo il video Poi Ma i suoi tic peggiorano Sembra che abbia perso la testa In genere a una disfunzione di questa particolare area cerebrale si associa a una mancanza di freni inibitori nei pensieri e nelle parole Oh, no, no Marco di Dio No, no Mangiati il mio enorme cazzo Coglione Poi dico, poi no La sindrome di Tourette è un disturbo biologico Si presentano anomalie in alcune aree del cervello specialmente il lobo frontale Un tic è definito come l'urgenza di fare qualcosa Un'azione ripetitiva che non può essere evitata che va eseguita immediatamente Solo a quel punto si prova una sorta di sollievo Negli ultimi anni i tic fisici e verbali sono talmente gravi che non può più lavorare Fai schifo, puzzi di cazzo Quella è una delle mie clip preferite del Maseo Non so perché ma lo spinge veramente in una maniera sublime Guardi, ho i stick sul cranio Madonna È praticamente confinato in casa Ha paura di uscire Ha paura di uscire Anche un giro al supermercato può diventare un dramma Tenta di rimediare con gli amici conosciuti al gruppo di supporto Tutti loro soffrono della sindrome Decidono che questo luogo è perfetto per i turettici Aiuto Mi hanno rapito, aiuto Aiuto Tutto bellissimo Ma non voglio Ogni volta che guardo sto cazzo dei video Direbbero spossati Capito Molto spesso chi soffre della sindrome di Tourette Viene scambiato per un malato di mente Viene preso per pazzo Il fattore maggiormente antisociale Sono le ingiurie e i gestazzi Il tic sembra rivolto direttamente alle persone circostanti Sesso con me Sesso con me L'amicizia rende la sindrome più sopportabile Ma perché sono emotivo? Perché sono emotivo? Anche questo mi fa star Mi fa piangere Questo video Questo montaggio Ho le mie cose Comunque Fuori dal meme Abbiamo tutti Un po' di sintomi In ogni caso Rispetto per chi ha la sindrome di Tourette Te cammino Ma è un clickbait Ma che tier list di merda è Poche live di merda Mamma mia Hovi svegliati Mamma mia Hovi svegliati Mamma mia Mamma mia Hovi svegliati Grazie a tutti.